Presidente Centinaio, perché chiedete ad Alfano di venire in aula al Senato? Chiediamo di venire in aula attraverso un'interpellanza di gruppo, perché in base a quello che è successo a Bologna qualche giorno fa, al nostro segretario federale e in base anche a quello che è successo qualche giorno fa alla sede del Partito Democratico, in entrambi i casi dove dei centri sociali hanno impedito il regolare svolgimento di iniziative di libertà di movimento e di parola da parte di cittadini italiani, allora a questo punto abbiamo deciso di presentare questa interpellanza proprio perché chiederemo ad Alfano di impedire a queste persone di eseguire, di compiere questi atti violenti. Noi riteniamo impensabile che un cittadino italiano, un cittadino debba utilizzare per forza la scorta, debba essere scortato dalla polizia, dai forze dell'ordine se vuole compiere il proprio dovere. Riteniamo impensabile che non ci si possa muovere liberamente sul territorio nazionale. Riteniamo impensabile che un segretario di partito non possa svolgere le sue funzioni perché ci sono degli scalmanati che decidono di spaccare tutto. Non possiamo pensare che una sede del Partito Democratico, una sede quindi di un partito con persone elette in Parlamento, non si possano svolgere delle riunioni perché i centri sociali hanno deciso che quel giorno devono fare i matti. Queste sono cose che in uno Stato Democratico non possono succedere, sono cose che devono essere condannate e sono atti violenti che non possono passare inosservati. Di conseguenza come gruppo al Senato abbiamo deciso di far sì che Alfano si prenda le sue responsabilità, che non è tanto una responsabilità per quanto accaduto ma per quanto non deve accadere in futuro.